Ciao a tutti amici di Extreme Hardware.com e ben ritrovato ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione anche la nuova tassiera da gaming di tipo meccanico in formato TKL EverX Alloy Origins Core che è appunto la sorella minore dell'alloy classica in versione full layout. È una tassiera uscita da poco sul mercato che va ad introdurre anche un nuovo tipo di switch che come possiamo già intravedere dal logo presente sulla confezione è lo switch HyperX Aqua che è un switch di tipo meccanico con feedback tattile. In poche parole è un brown in versione HyperX. Partendo dalla confezione possiamo osservare la classica confezione in stile HyperX molto elegante sfondo bianco con qualche tocco di colore rosso, immagine illustrativa del prodotto. Nella parte superiore possiamo osservare la compatibilità al software di gestione di HyperX, piena compatibilità alla redominazione RGB e come dicevamo prima l'adozione in questo modello abbiamo ricevuto degli switch meccanici HyperX Aqua che sono degli switch meccanici con feedback tattile. L'out di digitazione è americano, compatibilità con PC, PS4 e Xbox One. Nell'adretto della confezione possiamo osservare le principali caratteristiche, quindi un cavo USB Type-C removibile, un chassis in alluminio diciamo aerospaziale come viene citato anche nelle caratteristiche, la disponibilità di tre tipologie di switch lineari, tattili e clicky, quindi sono i classici red, brown in questo caso per gli acqua di HyperX e i blu per quanto riguarda quelli tattili, la possibilità di regolare la tastiera su tre angolazioni per raggiungere il comfort di digitazione, quindi abbiamo 3 gradi, 7 gradi e 11 gradi. Sulla confezione non troviamo nient'altro, vabbè qualche altra informazione relativa ai team principali sponsorizzati da HyperX e nient'altro. All'interno della confezione troveremo dunque una classica card con le informazioni per quanto riguarda come contattare HyperX in caso di problemi con il prodotto e una quick start guide manuale relativa alla tastiera. A seguire un cavo rivestito in trecce di tessuto, classico connettore USB normale, da un'estremità e l'altra estremità è una Type-C, questa andrà ovviamente collegata alla tastiera e questa al computer. Infine troviamo la tastiera stessa che è la HyperX Alloy Origins Core. Come possiamo già osservare sono presenti anche dei caps in PBT Double Shot, vi mostriamo immediatamente anche il set ricevuto da HyperX che ringraziamo nuovamente, è in colorazione nera, sono i classici HyperX Pudding K Caps Double Shot in PBT, quindi dei tasti che come possiamo vedere hanno la parte inferiore semi-trasparente, vanno a migliorare l'illuminazione RGB per singolo tasto ed hanno un effetto più corposo per quanto riguarda l'illuminazione della tastiera. Noi li abbiamo già estratti come avete potuto già vedere da qualche tasto già inserito, qui sono rimasti i rimanenti che non abbiamo attualmente utilizzato. Con il kit di tasti è presente anche il classico tool che ci permetterà di estrarre più facilmente e evitare di danneggiare i switch meccanici presenti sulla tastiera. Passando dunque alla tastiera stessa possiamo osservare un design molto elegante, classico, colorazione total black, diciamo che il design riprende un po' i precedenti modelli della serie FPS Pro della versione compatta di HyperX. Lo chassis come dicevamo è realizzato in alluminio quindi massima robustezza e solidità per questa piccola e compatta tastiera da gaming di tipo meccanico, il layout di digitazione è americano. Nell'app parte superiore possiamo osservare tre tasti per tre profili memorizzabili e gestibili tramite software di gestione, un set di tasti multimediali che vanno dal tasto F6 al tasto F11 e anche la gaming mode relativa al tasto F12 attivabile sempre in combinazione FN più il tasto di nostro interesse. Qualche dettaglio come la barra spaziatrice con il logo HyperX, logo HyperX riportato anche di sopra delle freccette direzionali. La freccetta direzionale di sopra e di sotto ci permetteranno anche di giustire gli effetti, in questo caso non troviamo diciamo la stampa sul caps in quanto sono presenti su quelli là in ABS e non su questi qua in PBT. Nel retro della tastiera possiamo osservare ancora una volta lo chassis in alluminio, presenti i piedini in plastica che come abbiamo detto possono essere regolati su tre altezze, quella base, la secondaria con un piedino più piccolo e infine quello più esteso e grande, sempre con un piccolo rivestimento in gomma per massimizzare la stabilità sul piano d'appoggio e sulla scrivania. Scrivendo il piedino troviamo anche due ulteriori piedini di piccole dimensioni nella parte inferiore per stabilizzare appunto la dossier. Il cavo come abbiamo visto è di tipo removibile, questo è l'ingresso del connettore USB Type-C e possiamo osservare anche la struttura esposta degli switch meccanici adottati che abbiamo già detto essere HyperX Acqua con un feedback tattile. Possiamo osservare anche il colore, ricorda molto il colore Acqua, comunque un colore molto chiaro. Passiamo dunque a dare uno sguardo a questi switch meccanici. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ovviamente non consiglio di farlo a casa se non siete comunque un minimo esperto o comunque un minimo di accortenza. Rischiate comunque di rompere gli switch al di sotto dei caps. Possiamo osservare una struttura trasparente, il led posto nella parte superiore, led di tipo RGB per singolo tasso, quindi massima personalizzazione degli effetti e dei colori della tastiera. E questo ad esempio è un caps in double shot pudding in PBT del kit fornito da HyperX. Come possiamo osservare nella parte inferiore è presente una parte più semitrasparente, nella parte superiore è una classica colorazione di colore nero. E mettiamo a posto il caps e questa è dunque la tastiera HyperX Alloy Origins Core che andremo ad analizzare sul nostro sito, dove troverete ovviamente ulteriori immagini dettagliate, i nostri test, le sue considerazioni, le conclusioni circa questa nuova tastiera dotata di questi nuovi switch HyperX Acqua. Rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximado.com Con questo è tutto, ci vediamo al prossimo unboxing, un saluto allo staff.